Aldo, Aldo, il giorno 10 giugno 2019 si trova al bosco in città. Sì, ma dove? Zona Baggio. Che belli questi fiori. Quante tonalità di colore ci sono. Non è un azzurro preciso. Ci sono diverse tonalità. Mi avvicino. Qui vedo un colore. Lo tocco con la mano. Qui un altro colore. Ma quanti colori? Ecco, questo gruppetto di colori assume diverse intensità. Anche quello là c'è dentro un fiore più scuro. Rosa. Che bello questo campo qua che c'è a Baggio. È bellissimo. Non l'avevo notato anni indietro. Forse li hanno messi quest'anno seminate le varie tonalità di... Che fiori sono? Mi sembra che si chiamano fiordaliso. Non me ne intendo dei nomi di fiori. So che il mio occhio favilla a vedere questo campo immenso in una città. Vi saluto e mi dirigo a piedi verso casa mia. Da questa direzione. Passavo d'inverno quest'ora con la nebbia. Ora ci sono in giro delle ragazze bruttissime a correre, grasse. Ma come si può vedere delle donne così, che corrono così grasse, qui nel parco? Non hanno vergogna. Io ho vergogna della mia pancia. Loro con la cellulite, tutto, si mettono a correre qua in mezzo al parco. Biatti loro che non si sentono padroni del loro corpo. Sono libere. Anche questo è un volere di accettarsi della propria persona. Non è uno sbaglio. Però preferisco nascondere Aldo saluti da questo campio di fiori dove ho notato che la bellezza esiste in me più in un fiore, in un campo di colori, che in una struttura schifosa di queste donne che corrono.